Bene bene ragazzi, benvenuti in Excel Magico numero 188, benvenuti nel primo video dedicato alla realizzazione di questa dashboard, quello che vedete qua in questo momento è il risultato finale, cioè una dashboard interattiva, come quella che abbiamo visto nel video precedente, solo che questa qui è molto molto più interessante perché abbiamo aggiunto molti elementi grafici ma anche altri elementi funzionali come ad esempio grafici nuovi, the widget, personalizzazione del formato, anche elementi di protezione, vedete che se io tocco qua, ma ci sono tantissime altre cose, non voglio spoilerarvi nient'altro in questa introduzione qua, comunque andiamo a creare questa bella dashboard interattiva e però ovviamente per interattiva vuol dire che io da questi filtri qua, se scelgo ad esempio il 2021 e scelgo ad esempio il venditore Lombardi, scelgo ad esempio le nazioni Belgio, Danimarca, Finlandia e Germania, ecco vedete che tutti questi filtri qua che sono tutti interconnessi tra di loro, sono tutti collegati a tutti questi grafici e ovviamente rende il tutto veramente molto attraente e accattivante, poi ovviamente anche i colori fanno la loro parte, bene questa dashboard qua come dicevo io è abbastanza lunga e impegnativa, niente di difficile, sono tante cose molto semplici da fare, solo che comunque ci vuole il suo tempo, quindi ragazzi albando le ciance e andiamo a vedere come fare il tutto bene ragazzi adesso iniziamo a creare la nostra bella dashboard e ovviamente per creare una dashboard abbiamo bisogno sempre di un database, questo qua è il nostro database di riferimento, facendo il control flaccetto in basso vedete che è un database con 8400 records, un database decisamente grande poi abbiamo qua ovviamente i campi nelle colonne e i records nelle righe, ok abbiamo il campo data, il campo del numero degli ordini, abbiamo il campo venditore, il campo dei nomi dei clienti, il campo delle nazioni, ecco qua abbiamo le recensioni in tempo e ritardo che sono tutti quegli anelli che poi andremo a fare noi recensioni prodotto, recensioni del servizio, servizio buono, servizio cattivo, poi le altre cose, quantità, prezzo, totale, finale, ok? bene questo database qua io l'ho trasformato da intervallo a tabella e gli ho dato anche un nome, il nome si chiama DB, database in abbreviato, ma perché l'ho trasformato da intervallo a tabella? perché poi alla fine andremo ad aggiungere altri dati che io adesso momentaneamente li ho lasciati qua dentro un altro foglio che si chiama aggiungi database, poi alla fine faremo il test finale e ovviamente andiamo a incollare tutto qui alla fine ed essendo questa una tabella i dati si incollano tutti e vengono presi e di conseguenza vengono prese le tabelle pv e i grafici pv per rendere tutto diciamo dinamico e interattivo, ok? bene a questo punto ragazzi andiamo qui nel foglio dashboard e andiamo a creare la nostra dashboard, ecco la prima cosa che dobbiamo fare ragazzi è inserire una immagine perché abbiamo visto che io di tanto in tanto mi sposto nell'altro file per vedere qual è il progetto vedete che qua abbiamo un'immagine sotto che è trasparente, un'immagine un po' scura, poi abbiamo tutti i porta grafici, ok? poi abbiamo i porta label, abbiamo le etichette, abbiamo le icone, abbiamo tutte queste scritte qua, ok? quindi dobbiamo fare questo progetto qua, ok? la prima cosa dobbiamo fare è inserire un'immagine ecco l'immagine, io tra le altre cose, ecco qua facendo shift d che andiamo nel desk, poi io me la sono già preparata ecco vi consiglio sempre di prendere un'immagine molto grande, ok? come quello che ho preso io, ho fatto una ricerca su google e ho trovato un'immagine molto grande infatti facendo proprietà vado qua in dettagli, vedete che ha di dimensioni 2880 in larghezza e 1800 in altezza decisamente molto grande, ma perché è importante che sia grande? perché questa immagine qua quando la mettiamo dentro excel, poi dopo dobbiamo ingrandirla e se è molto grande come immagine, cioè per grande intendo con un'alta risoluzione, con tanti pixel e quando l'allargo non si vede sgranato, non si vedono i puntini invece se è piccolo ovviamente al contrario, quando l'allargo si vede tutto sgranato con i pixel grossi, ok? quindi torniamo qua in excel, andiamo qua in inserisci, ecco qua inserisci da questo dispositivo e andiamo a scegliere la nostra immagine, ok? ecco questa qua è un'immagine ad alta definizione con tanti pixel, vedete che più l'allargo e non mi dà nessun problema ecco ragazzi adesso una cosa molto importante, le dimensioni della dashboard queste sono molto importanti perché dobbiamo cercare di capire sin da subito quelle che saranno le nostre dimensioni perché poi se alla fine non ci piacciono le dimensioni, dobbiamo magari stringere, allargare e quando stringiamo, allarghiamo, di conseguenza come potete vedere, ecco qua, facendo control tab oppure semplicemente andando qua, vedete dobbiamo comunque, se noi allarghiamo la dashboard dobbiamo comunque spostare tutte queste icone qua, le icone, i grafici, le label, le porta label i porta grafici, insomma bisogna fare tanti spostamenti, per cui cerchiamo di capire quale sarà la nostra area del grafico e le nostre dimensioni di conseguenza della relation e per fare questo sfruttiamo proprio queste immagini qua, ok? gli diamo, diciamo, una posizione nel quale poi noi andiamo a creare ecco quando creiamo le dimensioni dovete considerare anche se volete tenere la barra della formula l'intestazione di colonna, che queste qua comunque occupano spazio dovete tenere in considerazione anche se volete tenere la barra qua orizzontale per lo scroll bar volete tenere anche i fogli eccetera eccetera, sono tutte cose che occupano spazio e ovviamente cambiano le dimensioni io ovviamente vi consiglio comunque ad ogni modo di tenere comunque la barra della formula e anche le intestazioni anche perché semplicemente se poi io domani vado a lavorare su un altro progetto devo comunque richiamare la barra della formula e richiamare le intestazioni di campo e di colonna comunque se volete togliere, andate qua in visualizza vedete qua, barra della formula potete togliere, potete togliere anche le intestazioni vedete, avete più spazio però vi ripeto, se domani dovete fare un altro progetto dovete comunque reinserirlo per cui dovete richiamare un'altra volta quindi vale la pena lasciare così, ok? io a questo punto cercherei di calibrare le dimensioni della dashboard attraverso queste immagini con questi, diciamo, con questo formato qua quindi io qui posso allargarmi ancora un pochettino, ok? ecco qua, direi che è perfetto, ok? noi dobbiamo lavorare in quest'area qua adesso vogliamo anche zoomare, non c'è problema però ricordiamoci che comunque mettendo al 100% abbiamo l'intera area, ok? bene ragazzi a questo punto diamo un formato a queste immagini qua prima abbiamo visto che questa immagine qua era un po' scura quindi per scurirla, mouse destro, formato immagine mi viene fuori il menu contestuale al formato immagine andiamo qua nel secchiello, anzi no nel secchiello in questa icona qua che rappresenta, vedete, le montagne con il sole che mi permette appunto di correggere l'immagine andiamo qui, andiamo a interagire qua sulla luminosità, ok? andiamo a farlo un po' più scuro per cui meno, facciamo meno 70 che mi sembra che vada bene, ok? anzi arreghiamoci un pochettino così riusciamo a vedere meglio eccoci qua, facciamo così, questo qua stringiamolo eccoci qua bene a questo punto qua ragazzi andiamo a mettere le prime forme vedete qua ci sono delle forme che sarebbero poi i contenitori diciamo della nostra sidebar il contenitore dei grafici e dei titoli eccetera eccetera ecco per inserire un contenitore andiamo qua in inserisci, inserisci forma andiamo a scegliere questo rettangolo qua, ok? quindi a questo punto non facciamo intanto che mettere il nostro rettangolo, ok? lo spostiamo un pochettino più in qua ovviamente è tutto da formattare ecco qua vedete che è venuto a fare il menu contestuale e andiamo a scegliere in questo caso qua la nostra immagine andiamo a mettere un riempimento ecco qua come riempimento mettiamo il riempimento solo che non si riesce mai a leggere riempimento sfumato ecco qua mi ha già dato il riempimento sfumato che avevo fatto prima ok? me l'ha ripreso però magari voi molto probabilmente potete trovare un qualcosa del genere con colori diversi, ok? potete trovare una cosa così eccetera eccetera ecco qua ci sono degli interruttori che io posso spostarli e cambiare di colore ad ogni interruttore, vedete? questo interruttore qua lo posso cambiare non so, verde e possiamo cambiare come vogliamo ovviamente a me interessano solamente due interruttori il primo questo qua è l'ultimo in nero, ok? quindi questo qua andiamo ad eliminarlo qua c'è la croce rossa, lo togliamo e questo qua lo togliamo, ok? quindi poi possiamo anche interagire sulla trasparenza, ok? in più qua vedete che abbiamo il pulsante della trasparenza possiamo decidere come lo vogliamo trasparente, ok? ecco ovviamente clicchiamo qua sul nero per avere la trasparenza del nero e clicchiamo qua sul verde per avere la trasparenza del verde, ok? ogni interruttore ha le sue personalizzazioni, ok? dipende quale clicchiamo, ok? clicco il verde, modifico il verde clicco il nero, modifico il nero, ok? bene ragazzi notate che qua ad esempio c'è una linea tutta intorno io voglio togliere anche questa linea qua riclicco la forma e andiamo qua in linee e togliamo linea, ok? vedete che è sparita bene ragazzi adesso dobbiamo creare le altre forme come facciamo a creare le altre forme? bene, per non perdere tempo possiamo fare un'operazione abbastanza smart semplicemente cliccando questa immagine qua e andiamo a duplicarla tenendo premuto il tasto control, vedete? io ho duplicato l'immagine quindi a questo punto basta ridimensionarla e la posizioniamo dove meglio possiamo ecco vi consiglio di allinearlo tutto bene sin da subito perché poi diventa difficile spostare tutto quello che dicevo io le etichette, i numeri, i grafici quindi ragazzi cerchiamo di ecco andiamo a vedere com'era questo qua era stretto e largo per cui andiamo ad allargarlo un pochettino eccoci qua e qua adesso facciamo un duplicato ecco qua stesso lavoro di prima zoomiamo un pochettino in modo tale che vediamo com'era ecco qua ci andava il grafico quello oppa scusate ctrl z ecco qua la allineiamo così ecco poi per allinearlo bene diamo le dimensioni formato forma possiamo sempre giocare un pochettino da qua ok? anzi non era questo scusate era questo qua all'altezza per avere la stessa altezza eccoci qua possiamo fare questa operazione qua e poi possiamo allinearlo magari in basso ok? allinea in basso ecco cerchiamo di allinearlo tutto subito altrimenti poi è un gran caos ok? adesso facciamo un duplicato andiamo a mettere qua poi ci andava il grafico dell'Europa della diciamo che era il grafico della zona poi andiamo a fare un altro un'altra forma che era il grafico questa qua delle date questo qua era un po' più quadrato questo qua era un po' più lungo eccoci qua e poi abbiamo qua il titolo ecco qua ho fatto un casino ctrl z per tornare indietro quando facciamo i pasticci ragazzi eccoci qua andiamo qui eccoci qua ecco qua andiamo qua eccoci qua anzi questo qua facciamo un po' più piccolino perché così abbiamo più spazio per i widget eccoci qua e qua abbiamo l'ultimo eccoci qua bene anzi quando ho fatto un duplicato ho fatto ecco qua perché per sbaglio ho ottenuto premuto il tasto ctrl va bene sembra che ci siamo eventualmente se vogliamo allinearle come abbiamo fatto vedere prima andate qua in formato forma e andiamo qua in allinea in alto ok così siamo sicuri che sono allineati bene anzi forse ah no perché comunque ctrl z io inadvertitamente vedete ragazzi avevo selezionato anche l'immagine che c'era sotto e ovviamente lui me l'allinea sopra però devo cliccare solamente tenendo premuto il tasto shift è solamente diciamo quelle che ci servono a noi e non l'immagine a questo punto ho formato forma allinea in alto ok bene ragazzi a questo punto vediamo cosa dobbiamo fare facendo ctrl tab ecco vediamo che dobbiamo inserire questi porta diciamo etichette qua ok semplicissimo andiamo a inserire una forma ecco vado a scegliere questo rettangolo qua con diciamo gli angoli arrotondati ok e mettiamo questa label qua dopo di che vedete che qua c'è un pulsante arancione ecco io trascinandolo posso diciamo formarlo sempre più rotondo ok lasciamolo così lasciamolo abbastanza lungo eventualmente poi lo possiamo comunque ristringere ecco ovviamente dobbiamo dargli un colore per dargli il colore non faccio nient'altro che andare con il mouse destro formato forma ecco qua allarghiamoci un pochettino perché non so perché qui eccoci qua andiamo qua in riempimento e anziché blu gli diamo un colore molto chiaro possiamo fare magari anche un giallo ovviamente devo mettere la trasparenza giusto per dare un po' di contrasto e ovviamente togliamo anche la linea perché lì sotto c'è una linea ok ecco adesso ragazzi io semplicemente tenendo punto il tasto control me ne duplico una adesso me ne duplico un'altra e adesso me ne duplico un'altra ok ecco per duplicare vi ricordo tasto control e mouse 1 ecco adesso vediamo cosa fare dopo abbiamo tutte le icone da inserire qua la stretta di mano tutte queste belle icone qua non facciamo intanto che andare qua in inserisci ecco io con Excel 365 ho la tab icone scelgo icone la prima icona si chiama clienti ok clienti e vado a scegliere anzi qui non ho scritto clienti ho scritto male eccoci qua nella barra qui della ricerca vado a scegliere questa icona qua e do l'ok ecco adesso questa qua si è posizionata qua sotto che lì ho trovato un po' di spazio bianco ecco non vi preoccupate adesso per la formattazione per il colore per le dimensioni che poi andiamo a dimensionarle tutte quante dopo qua ci andava l'euro per cui andiamo in inserisci icona andiamo qua nella barra diciamo delle ricerche scriviamo euro ok e andiamo a mettere l'euro andiamo in inserisci ok e lo mettiamo qua ecco vediamo qual'era quell'altra questa qua si chiamava della località ecco qua inserisci icona località ecco la qua l'ho già trovata perfetto inserisci e questa qui la mettiamo qua ecco l'altra che è un grafico questo grafico qua lo troviamo dentro analisi per cui inserisci icone e andiamo qua perché ci possiamo anche cercare da qua volendo se non sbaglio c'era qualcosa interfa persone viaggi ce ne sono veramente tantissime questo qua analisi e andiamo a scegliere questa qua perfetto inserisci la mettiamo qua dopodiché andiamo a vedere qual'era quell'altra ecco qua control tab ah la stretta di mano la stretta di mano inserisci icona andiamo qua scriviamo semplicemente stretta di mano mettiamo questa qui inserisci la mettiamo qua e l'ultima era venditori che era questa qua con l'icona così che la troviamo dentro inserisci icona se non ricordo male facciamo scriviamo lavoro eccola qua l'abbiamo trovata inserisci e la mettiamo ecco adesso diamo un colore a tutte quante le icone e per colorarle tutte in una volta semplicemente tengo premuto il tasto shift ok non control altrimenti mi duplica shift o maiuscolo e le seleziono tutte ok le seleziono tutte e gli diamo il formato bianco qui ecco qui nella barra del menu rapido mi sono messo tutti i menu che mi potrebbero servire per cui andiamo a cambiare il colore adesso li possiamo ridimensionare adesso che sono tutte selezionate semplicemente mi metto qua sullo spigolo e le ristringo un pochettino ok ecco facciamo le più piccole possibili in modo tale che ci stanno qua dentro ecco in realtà questi due qua dovrebbero essere un po' più grandi perché comunque queste qua erano di un'altra dimensione ok dopodiché facciamo una cosa le riposizioniamo giuste ecco adesso sembra tutto piccolino ma ovviamente dopo quando andiamo a mettere al 100% diciamo che sembra un po' più grande però in effetti comunque sembra un pochettino piccole andiamo premuto il tasto shift e gli diamo un pochettino una dimensione un po' più grande volendo possiamo anche misurare da qua qua vedete l'altezza possiamo dargli una dimensione ecco mettiamoci a 0,9 vediamo se eccoci qua questa qua cambiamo la posizione bene adesso qual è il prossimo step il prossimo step è mettere le scritte all'interno vedete che qua abbiamo il titolo dashboard interattiva controllo soddisfazione cliente ecco qua mettiamoci qua inserisci inserisci un testo una casella di testo e mettiamoci qua e scriviamo dashboard interattiva soddisfazione cliente eccoci qua a questo punto non facciamo nient'altro a che ingrandirlo un pochettino ecco qua diamo ovviamente una trasparente a questa forma qua mouse destro formato forma nessun riempimento nessuna linea gli diamo un colore qui ecco qua nel menu rapido mi sono messo anche il formato del font eccoci qua gli diamo un po' il più grande eccoci qua fino a quando ci sta bene ecco qua ad esempio dashboard lo mettiamo col maiuscolo dashboard anche qua interattiva mettiamo il maiuscolo dashboard interattiva e soddisfazione cliente dobbiamo semplicemente adesso centrarla ecco volendo questo qua possiamo stringerlo un pochettino in modo tale che abbiamo un po' di spazio in più per questa qua che mi sembra un pochettino un po' troppo stretta anzi più che questa era questa qua un pochettino stretta ok quindi questa la mettiamo qua e questa qui la mettiamo di qua bene ragazzi quali sono le altre label ecco per creare le altre label ad esempio c'era questa qua area vendite e cronologia facciamo semplicemente creiamo un duplicato sempre tengo premuto il tasto control e le duplico una e qui scriviamo area geografico oppure semplicemente scriviamo zona che è più veloce da scrivere ok ovviamente questa qua ha un po' da rimpicciolire non facciamo nient'altro che selezionarla e qui da ridimensioniamo il font anzi forse un po' troppo piccolo ecco così dovrebbe andare bene ecco qua ecco in questo caso qua qui mi va bene ma ovviamente dobbiamo rimpicciolire un pochettino la label sotto ecco qua ecco qua facciamo un duplicato adesso visto che questa qua andava bene ne duplichiamo una qua questa qui come la chiamiamo non mi ricordo scriviamo cronologia ecco qua potete scrivere quello che volete ovviamente cronologia eccoci qua ecco sono importante ovviamente che le dimensioni siano tutte quanto uguali per cui facendo quel discorso là del duplicato funziona benissimo ok adesso stringiamo scusate ecco qua dobbiamo fare sempre attenzione dove clicchiamo con il mouse perché altrimenti facciamo i danni ok questo qua però devo mettere un pochettino più in alto perché mi sembra un po' troppo in basso ok adesso creo un duplicato e lo mettiamo qua e lo chiamiamo questo qua recensioni ok benissimo lo spostiamo un pochettino questo qua lo stringiamo un pochettino ok facciamo un altro duplicato eccoci ecco adesso facciamo un altro duplicato ecco qua tengo premuto il tasto control lo mettiamo qua e questo qua anziché recensioni si chiama venditori benissimo ovviamente dobbiamo mettere le etichette anche qua facciamo così facciamo un altro duplicato questo qua si chiamava clienti unici scriviamo solamente clienti giusto per capirci ovviamente diamo un formato molto più piccolo questo qua molto molto più piccolo ecco qua questo qua lo mettiamo qua sotto così facciamo un duplicato e questo lo chiamiamo totale filtrato eccoci qua questo qua lo possiamo ingrandire un pochettino bene diciamo che ragazzi la prima parte grafica l'abbiamo sistemata poi ovviamente la parte grafica la riprendiamo dopo alla fine adesso dobbiamo iniziare a mettere diciamo a creare più che altro le nostre tabelle pv e poi di conseguenza i grafici pv ovviamente per fare tutto questo io mi sono portato avanti ho già creato tutti i fogli nei quali andiamo a mettere tutti i nostri grafici pv le nostre tabelle pv anche le nostre formule ok ovviamente ci serve un database che è questo qua e dobbiamo richiamare la nostra bella tabella pv per richiamarla ovviamente clicchiamo qualsiasi punto di questa tabella pv andiamo qua in inserisci andiamo qua in tabella pv vedete qua lui ha già riconosciuto diciamo la tabella che ovviamente avevo cliccato questa qua ecco qua allo stesso modo noi ragazzi visto che io ho già creato i fogli senza creare un foglio nuovo io cosa faccio vado qua nel foglio nuovo ok mi posiziono qua nella cella a1 e vado qua e inserisci inserisci tabella pv qua l'ho scritto tabella intervallo in questo caso qua andiamo a inserirlo noi e mettiamo db che era il nome appunto della tabella di questa cartella di lavoro assicuriamoci che la location sia quella esatta cioè cella a1 e diamo l'ok ok bene il primo grafico era quello ovviamente dei clienti univici cosa sono i clienti univici sono i clienti che hanno diciamo in base a tutti questi filtri qua perché ad esempio se seleziono il 2021 e seleziono solamente il venditore zanato vedete che qua diminuiscono i clienti univici cioè ogni venditore ha un tot di clienti ok però ovviamente qui nel database i clienti si ripetono tante volte ma noi ci servono solamente i clienti quelli univoci ok quindi ecco qua facciamo così a questo punto dobbiamo creare una tabella pv per rendere tutto interattivo ok ecco tabella pv che ricordiamoci sempre di dare il nome sempre al foglio io l'ho già dato prima però ricordatevolo anche voi di fare e date anche il nome alla tabella pv ok per dare un nome andiamo qua a cliccare la tabella pv andiamo qua nel menu contestuale analizza tabella pv e diamogli un nome in questo caso qua lo chiamiamo clienti anzi si chiamano semplicemente clienti unici così ci capiamo ok e questo qua è molto 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 semplice non facciamo intanto che trascinare qua i clienti ok ecco questa qua è una tabella pv molto molto semplice come vedete non ci sono tabelle complicate è una tabella pv che mi ha restituito appunto tutti i clienti univoci perché tra le caratteristiche appunto delle tabelle pv è quello di restituirmi proprio tutti tutti i valori univoci e me lo istituisce anche in ordine alfabetico qua effettivamente sono in ordine alfabetico anche se potrebbe trarre un inganno il fatto che ci sono dei numeri che vedete qua 1 10 eccetera eccetera e poi torna qua all'11 ma questi qua sono dei testi ovviamente sono ordinati dall'A alla Z se fossero stati dei numeri ovviamente questi qua non sarebbero corretti perché qua dall'1 passiamo al 10 poi torniamo qua all'11 eccetera eccetera comunque quello che ci interessa a noi sapere che questi qua è una lista di clienti univoci quindi a noi ci interessa semplicemente sapere quanti sono i clienti univoci come faccio a sapere quanti sono semplicissimo con la funzione conta valori che mi conta quanti valori ci sono ok tab seleziono tutto l'intervallo e do l'invio ecco qua mi da 300 clienti univoci ovviamente in questo caso qua non sono ancora filtrati dopodiché facciamo un piccolo test se funziona andiamo a selezionare 2 o 3 clienti anzi facciamo così togliamo tutto togliamo tutto il flag eccoci qua e selezioniamo solamente 2 o 3 clienti vedete che qua mi calcola 4 clienti invece qua in realtà ce ne sono solamente 3 perché lui ha contato anche il totale complessivo quindi dobbiamo togliere il totale complessivo perché ovviamente lui me lo vede ok vedete F9 vedete che lui mi trova cliente 1 cliente 2 cliente 105 e il totale complessivo ok dobbiamo toglierlo semplicissimo clicchiamo qua la nostra bella tabella pv andiamo qua in progettazione totali complessivi disattiva totali complessivi ok questa qua sarà il nostro widget la nostra etichetta che poi vi farò vedere come importarla all'interno della dashboard il passaggio successivo è quello di andare a creare qua i totali filtrati ok ovviamente i filtrati stesso discorso di prima vedete che i totali cambiano in base alle scelte che noi facciamo in questi filtri qua ecco notate anche il formato che qua è in milioni ok questi qua sono 6.793 milioni non ho messo il numero intero perché il numero era molto gigantesco ok control tab per tornare indietro andiamo qua nel foglio nuovo che si chiama widget totale andiamo qua nella cella A1 inserisci tabella pv scriviamo db che è ovviamente la tabella che è presente in questa cartella di lavoro assicuriamoci che la location è quella giusta do l'ok vedete ricordiamoci di dare sempre il nome lo chiamiamo in questo caso qua lo chiamiamo totale filtrato ecco ragazzi adesso vi faccio vedere la tabella pv più facile del mondo io ovviamente non faccio in realtà che cliccare qua trascino il totale qua dentro ed è finita questa qua è la tabella pv questo qua è il risultato che ci serve a noi ovviamente adesso ci da un numero gigantesco ma ovviamente dipende dai filtri più è filtrato più diminuisce perché vi ricordo che tutti i filtri sono tutti interconnessi tra di loro ok quindi a questo punto qua ecco qua volendo possiamo dare anche un formato ma visto che queste tabelle pv sono sempre dietro diciamo dietro le quinte non vengono viste possiamo anche non mettere il formato però adesso andiamo a mettere una funzione molto semplice andiamo a cliccare questa cella qua e la funzione si chiama info dati tabella pv ok questa funzione qua mi permette di interagire appunto con la tabella pv per cui quando qua cambiano i dati cambiano anche all'interno di questa cella qua ok ovviamente questo formato qua non mi piace assolutamente per dare un formato andiamo qua in home gli diamo il separatore di migliaia e togliamo anche i decimali ok ma io in realtà non sono soddisfatto voglio dare un ulteriore formato come quello che avevamo visto qua vedete che mi da i milioni anziché tutto il numero per intero e voglio mettere diciamo tutto un po' più piccolino ecco per cambiare il formato io in realtà ho già fatto un video Excel in piole numero 35 dove si personalizza il formato del numero ok per cui andrò un po' più veloce e spiegare come fare bene per fare questo con il mouse destro andiamo qua in formato celle oppure potevo fare anche con i tasti di scelta rapida CTRL 1 vado qua nella sinistra qua in personalizzato e qua in personalizzato vedete che c'è qua la barra del tipo io adesso la cancello ok bene la personalizzazione del formato di numero è diviso in quattro sezioni c'è il formato dei numeri positivi dei numeri negativi delle immagini e dei testi ok bene a noi in realtà ci serve solamente diciamo la sezione diciamo relativa ai numeri positivi per cui mettiamo solamente una sezione ok ecco ogni sezione si separa con il punto e vigola ma non interessa solamente la prima sezione dei numeri positivi che questo qua è un numero positivo ok bene io metto il cancelletto metto il puntino ancora cancelletto cancelletto ecco questo cancelletto qua è il puntino che mi serve per mettere il separatore di migliaia vedete che qua c'è il separatore di migliaia benissimo questo va bene poi metto lo zero che cos'è lo zero lo zero vuol dire che stiamo trattando i numeri positivi ecco adesso notate una cosa io adesso metterò un puntino e vedete cosa succede qua nell'esempio questo qua è l'anteprima vedete che vengono via le migliaia ok facendo il puntino vedete che sono venute via le migliaia mettendo un altro puntino vedete che vengono via anche diciamo i milioni ok per cui adesso abbiamo 6 milioni 247 anzi scusate 6 miliardi 247 milioni ecco io però voglio mettere un'etichetta che dica ok questi qua sono milioni per mettere un'etichetta metto una piccola stringa apro le virgolette perché le stringhe vanno messe tra virgolette e lascio uno spazio vuoto in modo tale che non rimane tutto attaccato M maiuscola LM anzi milioni con la N e poi chiudo le virgolette vedete cosa è successo con l'anteprima ed è quello che vogliamo do l'ok bene questa label qua sarà quella che appunto metteremo qua ecco adesso iniziamo con il grafico questo qua con le zone con l'Europa andiamo qua nel foglio successivo in posizione qua nella cella A1 inserisci inserisci tabella pv la chiamiamo db ok gli diamo anche un nome a questa qua andiamo qua in analizza tabella pv ok e la chiamiamo mappa ok giusto per scrivere qualcosa potremmo scrivere anche zona quello che vogliamo ok giusto per ricordarci ecco in questo caso qua facciamo intanto che prendere le nazioni le mettiamo qua ok e qui mettiamo i totali i totali sempre qua non ci sbagliamo ok bene a questo punto non faccio intanto che cliccare qua su questa tabella pv vado su inserisci vado a inserire la mappa il grafico a mappa vedete che mi dà un errore come dicevo anche nel video precedente il grafico a mappa non è un grafico pv quindi non viene considerato però c'è un modo per girare l'ostacolo semplicemente faccio un escamotage faccio un copia e in colla speciale ok solo valori ok bene io ho creato un intervallo che ovviamente in questo caso qua non è dinamico però mi accetta i grafici e poi vediamo come renderlo dinamico per cui andiamo qua in inserisci andiamo a inserire un grafico a mappa ok vedete ovviamente questo grafico qua non va bene perché ovviamente va a linkare diciamo come riferimento questo dataset che non è dinamico è statico infatti se io faccio dei filtri vedete che qua me li filtra eccoci qua se riusciamo ecco qua vedete qua me li filtra ma questo qua non me li filtra ok come facciamo a fare in modo che vengono filtrati ed è semplicissimo basta cambiare i riferimenti da qui li spostiamo di qua e per spostare i riferimenti sui grafici bisogna andare qua in struttura grafico bisogna andare qua in selezione a dati vedete qua qua vedete intervallo del grafico mi dice che lui mi vede dalla cella D1 fino alla cella E27 cioè questa qua ma io devo fare dalla cella A1 fino alla cella B27 per cui da dove c'è scritto D metto la A e qui da dove c'è scritto la E mettiamo la B ok vedete che adesso il grafico va a tenere come riferimento questo intervallo qua a questo punto però ragazzi questo questi dati qua non ci servono però abbiamo reso tutto dinamico in base ai filtri vedete che se io ad esempio filtro solamente queste qua vedete che me le prende regolarmente togliamo i filtri ok ecco l'unica cosa vedete che qua diciamo dalla leggenda vedete che qua i numeri sono un po' bugiardi nel senso che qua lui mi prende anche 6 miliardi e 246 milioni che è il totale complessivo ma ovviamente mi fassa tutti i colori perché il totale complessivo non deve fare parte di questi numeri qua quindi come facciamo a fare questo semplicissimo togliamo il totale complessivo andiamo clicchiamo qua ovviamente la tabella PV andiamo qua in progettazione totali complessivi disattiva totali complessivi vedete che ha preso un po' di colore ok ecco poi la formattazione ovviamente la facciamo dopo adesso mi limito semplicemente a togliere la leggenda che non ci serve più togliamo anche il titolo del grafico perché i titoli ragazzi usiamo questi qua ok quindi ritorniamo a noi e vediamo qual è il prossimo grafico da fare ctrl tab ecco il prossimo grafico è questo qua della cronologia ok quindi è un grafico a linea andiamo qua selezioniamo appunto il nostro foglio andiamo qua nella cella A1 andiamo qua in inserisci tabella PVO scriviamo qua DB che è la nostra tabella do l'ok gli diamo un nome gli diamo lo chiamiamo per data o per cronologia chiamo cronologia GIA invio ovviamente per questo grafico qua dobbiamo semplicemente trascinare le date qua nelle righe e andiamo a trascinare i totali ecco qua i totali sempre dove ci sono i valori ok bene ragazzi vediamo cosa succede se io apro qua vedete che mi da anche i trimestri poi i mesi ma io in realtà voglio solamente gli anni e i mesi per cui i trimestri qua dove ci sono qua le righe io le tolgo ok ci sono diversi modi per toglierlo posso fare rimuovi campo oppure semplicemente lo possiamo buttare fuori vedete che adesso espandendo ecco ragazzi prima di richiamare il grafico dovete sempre assicurarvi che tutti questi anni qua sono già espansi altrimenti non prende il grafico per cui seleziono tutti gli anni con il mouse destro andiamo a espandere vedete qua espandi questa è una cosa molto importante ok bene ragazzi a questo punto non facciamo nient'altro che andare a prendere il grafico selezioniamo qualsiasi punto di questa tabella pivot inserisci grafico pivot e andiamo a scegliere un grafico a linea scegliamo o il primo o il quarto che sono i grafici quelli normali questo qua ha gli indicatori invece gli altri sono tutti grafici lì in pila e grafici in pila diciamo con il 100% io scelgo questo qua che è quello che mi piace di più perché c'è anche gli indicatori che sono quei pallini lì a questo punto ecco qua facciamo un po' di pulizia mouse destro nasconde tutti i pulsanti togliamo le label della leggenda che non ci serve togliamo il ecco ragazzi qua voglio creare una piccola cosa molto importante quelli che vedete qua questi pulsanti qua non sono i filtri ok questo è molto importante perché i filtri sono o questi qua che vedete oppure questi qua che vediamo questi qua ok questi qua sono la stessa cosa di questi qua da non confondere con questi lo dico perché molte volte magari uno vuole filtrare qualcosa lo filtra da qua per fare dei test vedete che qua il risultato è falsato ed è preso il 2022 però lui mi ha tenuto il totale parziale ma l'ha preso invece io se voglio togliere il 2022 non faccio nient'altro che togliere da qui dai filtri allora si vedete è un 2020 scusate 21, 23, 24 ok questo è molto importante perché se ad esempio noi magari inizialmente lo filtriamo e poi ci dimentichiamo di togliere che pensiamo che sia un filtro ma non è un filtro e poi dimentichiamo di espanderlo quando andiamo poi a richiamare il nostro grafico non ci risulterà quindi lasciate sempre espanso quelli che sono questi diciamo questi più e meno chiamiamoli così e i filtri possiamo filtrare come vogliamo ok quello non è un problema bene ragazzi qual è il grafico successivo è il grafico ad anelli ci sono tre anelli che sono questi qua puntualità prodotto e servizio ok ovviamente qua la parte bianca sono i numeri diciamo quelli positivi il da percentuale si riferisce ai valori positivi ok ecco ovviamente qui nel nostro database anche qua vedete che qua abbiamo per la produttualità abbiamo tutte le recensioni che abbiamo scaricato dal nostro gestionale abbiamo tutti non so quelli che sono in tempo e quelli che non sono in tempo ok anche per i prodotti la stessa cosa valutazione positiva del prodotto valutazione negativa anche il servizio bene ragazzi a questo punto andiamo qua nel foglio anelli e qua in questo caso qua andremo a portare chiamo tre tabelle pivot ok una per la puntualità uno per i prodotti e uno per i servizi a questo punto chiamiamo la prima tabella pivot che è riferita alla puntualità andiamo qua in inserisci inserisci tabella pivot ecco qua chiamiamo db che è la nostra tabella ok gli diamo un nome e lo chiamiamo ecco ragazzi in questo caso qua il nome della tabella pivot è molto più importante rispetto a prima perché in questo foglio qua ci sono più tabelle pivot perché noi sappiamo benissimo che quando dobbiamo richiamare le connessioni abbiamo sia il nome del foglio che il nome delle tabelle pivot ma quando all'interno del stesso foglio abbiamo più tabelle pivot è molto importante che si scriva il nome magari meno importante qua in questi qua che c'è solamente un diciamo una tabella pivot ma molto più importante in questo caso qua per cui questa tabella pivot qua deve avere un nome che si chiama puntualità andiamo qua in analizza tabella pivot e lo chiamiamo puntualità invio ecco adesso facciamo intanto che trascinare qua puntualità lo mettiamo qua nelle righe e qua poi mettiamo i totali qua nei valori attenzione però questo qua è un numero diciamo bugiardo perché in realtà questo qua mi fa la somma ma la somma abbiamo visto che abbiamo tanti di quei numeri macroscopici e non è quello che ci interessa a noi a noi interessa che ci sia il conteggio e non la somma quindi noi cosa facciamo da qui facciamo con il mouse destro imposta campo valore oppure anche da qua facciamo un mouse destro anzi clicchiamo qua sopra imposta campo valore vedete qua scegliamo anziché la somma il conteggio e noi sappiamo che abbiamo come recensioni negativi in ritardo 1047 e in tempo 7352 quindi a questo punto va bene ok il conteggio esatto andiamo a richiamare il nostro grafico inserisci inserisci un grafico pivò ovviamente sempre un grafico a pivò un grafico a torta e un grafico ad anello io lo chiamo un grafico a ciambella ok diamogli un po' di pulizia togliamo appunto mouse destro nascondiamo tutti i pulsanti togliamo qua le label che non ci servono perché ce l'abbiamo già dentro la dashboard ecco qua volendo il totale il nome del titolo possiamo metterlo qua che andiamo a creare questa etichetta qua vedete però a me sinceramente non è che piace molto perché riesco mettere una casella di testo nuova per cui togliamola a questo punto stringiamo un pochettino ok e posizionamola ecco ragazzi però qui c'è qualcosa che non va vedete che qui da mezzogiorno ecco diciamo così giusto per intenderci da mezzogiorno andando verso di qua abbiamo i valori negativi ok invece andando di qua abbiamo i valori positivi come facciamo a invertire ecco io vorrei che da mezzogiorno partissero i valori positivi ok bene è semplicissimo invertiamo la sequenza ordiniamo diciamo dal più grande al più piccolo anziché dal più piccolo al più grande per cui clicchiamo qua mouse destro ordina dalla z alla A vuol dire che appunto dal più grande al più piccolo vedete che adesso me l'ha posizionato bene ecco adesso non cambiamo i colori lo chiamiamo dopo quando siamo dentro la dashboard l'unica cosa che faremo dobbiamo creare una etichetta per avere il valore percentuale questo qua per intenderci vedete questa etichetta qua ecco per fare questo dobbiamo fare una una formula che è la formula per capire appunto la differenza percentuale ecco come facciamo a fare diciamo la percentuale semplicissimo posizioniamo qua facciamo uguale questo valore qua che è il valore più piccolo rispetto diviso a questo valore qua ok vedete lui mi da infodati ecco questo qua molto importante che ovviamente questi numeri qua se sono dinamici saranno dinamici anche qua ok in base ovviamente ai filtraggi ok ecco qua gli diamo un formato io qui nella barra del menu rapido mi sono messo anche diciamo lo stile percentuale ed è semplicissimo adesso richiamiamo ancora l'altra tabella pv questa qua la facciamo veloce perché ovviamente l'abbiamo già fatto prima lo ricopriamo sarà molto più semplice andiamo qua in formato forma vediamo tutti quanti la stessa altezza eccoci qua così non ci possiamo sbagliare e tutti quanti la stessa larghezza ok ok ci manca solamente la label uguale il numero più piccolo diviso il numero più grande ok diamoci una bella pennellata per il formato stile ed è fatta bene l'ultimo grafico era quello del venditore che era qua un grafico a colonna semplicissima vedete che tutti i grafici sono molto semplici abbiamo qui nelle categorie abbiamo i nomi dei venditori e qui abbiamo le serie ok quindi semplicissimo andiamo qua in campo venditore ecco qua andiamo qua in inserisci tabella pv db diamolo ok andiamo a chiamarlo venditore invio trasciniamo qua il totale nei valori trasciniamo qui i clienti nelle righe anzi no scusate non erano i clienti erano i venditori che sono le nostre categorie qua nelle righe e poi mettiamo l'anno ecco qua attenzione da non confondersi con la data ma andiamo a prendere gli anni ok li mettiamo qua nelle colonne quindi a questo punto ragazzi andiamo a chiamare il nostro grafico inserisci grafico pv attenzione non i grafici normali andiamo a prendere un grafico a colonna eccoci qua questo qua ecco attenzione ragazzi qui è molto importante però ecco qua tenere le etichette perché si riferiscono a questi colori qua quindi qua facciamo nascondi pulsante ecco queste qua le leggende in questo caso qua le dobbiamo tenere ok le mettiamo in alto ok questo è molto importante bene ragazzi che dire abbiamo fatto un po' di grafica abbiamo fatto le prime tabelle pv abbiamo fatto i primi grafici adesso ragazzi vi aspetto nel prossimo video Excel magico numero 189 dove andiamo a portare tutto all'interno della nostra dashboard che sarebbe questa qua andiamo a inserire poi i nostri filtri che sono tutti interconnessi tra di loro andiamo a collegare tutti i grafici a tutti questi filtri qua rendiamo tutto dinamico dal punto di vista meccanico e funzionale dopodiché andiamo a migliorare dal punto di vista grafico perché iniziamo a mettere a cambiare i colori alle nostre diciamo i nostri alle nostre slice ai nostri filtri chiamateli come volete dopodiché andiamo a mettere le protezioni in modo tale che nessuno le tocca ok quindi ragazzi vi aspetto al prossimo video come al solito grazie per aver visto questo video fino alla fine mettete un like se vi è piaciuto ragazzi iscrivetevi al canale perché per me è molto importante a voi ovviamente non costa assolutamente niente quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti